Vedete che c'è molta animazione, la chiocciola si è addirittura girata, ecco che potrebbe entrare la giraffa, potrebbe entrare, è entrata, è partita, prima il Bruco, la torre, il liocorno, all'esterno la giraffa, Bruco, torre, giraffa, primo San Martino con il Bruco sempre in testa, la giraffa entra all'interno, il Bruco cade, cade anche la giraffa, passa in testa il montone, seguito dallo scosso del Bruco, dalla torre, dall'oca, dal liocorno, sempre in testa il montone, con l'oca e la torre che si stanno inervando, è lo scosso del Bruco che sta inseguendo il montone, dietro oca, torre liocorno, secondo San Martino con l'oca che si sta portando in seconda posizione, mentre è caduto anche il liocorno, primo montone, secondo oca, terzo lo scosso del Bruco, quarto la torre mentre cade la giraffa e vedete che l'oca sta arrivando in montone, si stanno inervando furiosamente, terzo San Martino con l'oca in testa e secondo il montone che viene superato anche dal cavallo scosso del Bruco, un palio entusiasmante, l'oca che va a vincere il palio, l'oca che ha vinto il palio, l'oca in secondo il truco, terza la torre, quarto il montone che è stato superato all'ultimo giro, vedete i contradaioli che stanno correndo a prendere il cavallo, lo abbracciano, lo stanno abbracciando e trecciolino questo pantino senese, per la prima volta vince il palio.